Eccoci e bentornati sul mio canale, nuovo video di news, nuovo video di aggiornamenti sul mondo dei videogiochi. La Treyarch ha annunciato tramite il proprio profilo Twitter un'interessante iniziativa legata a Call of Duty Black Ops 3. Sto parlando del mercato e sto parlando dei lanci di rifornimenti rari, i sappli drop rare. Praticamente per 24 ore, quindi da oggi, dalle 10 am, quindi dalle 10 di mattina, ora americana, fino a domani, 24 gennaio, sempre 10 di mattina, quindi regolatevi con il fuso orario qui in Italia, ci sarà uno sconto del 50% sui lanci di rifornimenti, o meglio anche i lanci di approvvigionamenti, i sappli drop del 50%, se si utilizzano i Call of Duty Points, quindi i punti di Call of Duty. Quindi dal 23 gennaio alle ore 10 fino al 24 gennaio alle ore 10, i rare sappli drop costeranno e saranno disponibili per 100 Call of Duty Points ciascuno, quindi una cosa veramente molto interessante. Vi ricordo che Call of Duty Points e il Black Market, quindi il mercato nero, sono disponibili soltanto su PS4, Xbox One e PC. Quindi fatemi sapere se correrete a prendere subito un bel po' di sappli drop rare e fatemi sapere che cosa troverete. E se il video vi è piaciuto iscrivetevi sul mio canale, mettete un bel mi piace sul mio video. E ci vediamo con tanti nuovi video, sempre qui, sempre sul mio canale.